Rieccoci, allora Dennis abbiamo ancora soccorritore, abbiamo anche sopravvissuti insomma in sala ovviamente ricordo che dovevamo organizzare questa puntata fuori ovviamente perché ci sta ascoltando in esterna però purtroppo il tempo non ce l'ha permesso, abbiamo fatto all'interno del teatro qui di Lungarone con sopravvissuti e con soccorritori di quella tragedia che definì la tragedia troppo poco. Dennis. Sì, parliamo adesso con altri superstiti, qui alla mia sinistra c'è il signor Gianni, Gianni ci vuole raccontare la sua esperienza, che ricordo ha di quella notte? Allora io quella notte non ero a Lungarone, mi trovavo a Feltre per lavoro, facevo il maestro elementare e sono venuti a svegliarmi le due di notte con una pietosa bugia, mi hanno detto senti Gianni abbiamo sentito che a Lungarone stanno evacuando il paese perché si è dato all'allarme, se vuoi dare una mano ai tuoi vai su. Io ho preso la mia 500 e per percorrere i 50 km ho impiegato oltre 6 ore, perché ho dovuto percorrere un percorso tortuoso e arrivare a Lungarone dalla Valle di Zoldo, l'ultimo tratto poi a piedi e quando ormai era l'alba sono arrivato su dove era il mio paese, ho visto il nulla. Io dico sempre a Lungarone non c'era più nulla, è sbagliato, c'era il nulla. Mi guardavo attorno attonito, sbigottito come un incubo, ma dov'è il mio paese? la chiesa, la stazione ferroviaria, le piazze, gli edifici, eppure sono qui, le montagne sono lì. Non c'era più nulla. Ho vagato come un'automa, poi le ultime ore ho un vuoto di memoria e non so come avrei potuto ritornare a casa. Giorgio, chi invece era a Lungarone è qui dietro di me, Giuseppe Vazza, che mi corregga se sbaglio, lei era proprio al bar a vedere la partita, giusto? Quando arrivarono le 22.39, ci racconta cosa successe. Beh, io quella sera, vigliaccamente, e lo ribadisco vigliaccamente, ero al bar con gli amici per vedere una partita. In casa avevo lasciato la mamma e i nonni, e allora fatidica, vale a dire alle 22.39, è scoppiato questo finimondo. Dico scoppiato perché non avrei un aggettivo più appropriato per descrivere questo rumore. Un rumore che non si sentiva dalle orecchie, ma usciva dalla terra, ti entrava dal corpo fino a farti scoppiare la testa. Questa è una sensazione che mi porto, ci portiamo ancora da allora. Il bar è imploso su se stesso. Noi dal bar scappiamo. Stavamo vedendo la partita, Real Madrid contro Gillesdorf. Quando sono in strada il rumore si centrifuga ancora di più, era ancora più forte. Io capisco subito che si tratta della diga, perché io all'epoca avevo un'attività che fornivo, avevo un rapporto di lavoro con la diga. Avevo una macelleria a Codisago e fornivo le mensi operaie che lavoravano su Indiga, una specialmente, quella dell'Enel, l'ufficio montaggi. E quindi ero un po' conoscenza del dramma che si stava perpetrando. Pertanto ho pensato subito alla diga. Dal bar a casa mia ho 140-150 metri di strada. Calcolo che ce l'avrei fatta a correre verso strada, verso casa, svegliare la mamma e i nonni e scappare verso l'altro del paese. Perché questo? Perché già da tempo ci avevano inculcato il presupposto, ci dicevano se sentite dei rumori, i rumori uscire dalla valle, cercate di andare più in alto possibile, che se dovesse arrivare l'onda avete più possibilità di salvezza. Mi sono messo a correre a metà strada, ho visto le luci di Longuerone, che era di fronte a me, sparire come fossero mitragliate. E questo mi ha spiazzato perché non capivo come l'acqua fosse già arrivata giù a valle. Al buio più profondo ho continuato a correre e presumo di essere arrivato fino a fuori dalla macelleria e lì sono stato investito nella prima ondata. La prima ondata era di vento, un vento impossibile, un vento che ti strappava la pelle, ti entrava dalla bocca, dal naso, dagli occhi e quant'altro. Mi ha denudato dalla cintura in su e mi ha sollevato e mi ha portato indietro da dove arrivavo. Fortuna vuole che mi sia imbattuto in qualcosa, che questo qualcosa era qualcuno. siamo caduti, poi mi ha aiutato e mi ha rialzato e era presso casa sua lui e abbiamo guadagnato una strada laterale che sale in alto, verso l'alto del paese e ci siamo salvati così. Un attimo dopo, arrivata la seconda ondata, quella che già aveva distrutto Longuerone. Mi sono salvato così. Poi c'è un susseguo di vicende che è meglio raccontarle a piano perché mi prende già l'angoscia. Ecco, senta, mi dica perché vigliaccamente ha detto che era a vedere la partita, cosa ha fatto di male? È andato a vedere una partita, non è che si è scappato dalla famiglia per lasciarle lì da soli, è andato a vedere la partita, quindi non deve dirsi vigliaccamente. È andato a vedere una partita ed è successo quello che non doveva succedere, presumo. Perché io quella sera... Non è bello sentirsi dire, anche perché non se lo merita, non è stato un vigliacco in quel frangente, insomma. Mi sento un vigliacco. Perché? Perché io quella sera mi sono salvato e i miei no. Ma non è stato un vigliacco, mi scusi se... Ma io... Vigliacco è se... Beh, vabbè, sappiamo tutti, però non lo è stato, insomma. Non si può controllare le sensazioni, i sentimenti. Per carità di Dio, certo. E quello è quello che ho provato in trenta e più anni di silenzio la quale le istituzioni ci avevano relegato. Un silenzio vergognoso, quasi da vergognarsi di essere sopravvissuti. Questa... Cioè, dopo l'episodio di... Ecco, due cose mi piacerebbe sapere da lei. La prima che ha detto... Ci avevano avvisato che se sentivamo dei rumori di andare nella zona più alta del paese. Quindi c'era già la percezione che poteva accadere qualcosa. Certo, certo. Era già due anni prima con la prima caduta. E perché allora i voi abitanti, lei era giovane, molto probabilmente, hanno continuato a persistere nel vivere e nessuno a denunciare quell'episodio due anni prima, insomma, visto che c'era questa possibilità. C'era omertà, non si poteva parlare. Come diceva lei, la politica non ha contribuito a dare una mano. Mi racconti perché? Questa è una domanda cinica, finché vuole. Perché me ne hanno già posta certi responsabili della sale. Perché? Se tu sapevi se sei rimasto qua. Dove dovevo andare con la mia famiglia? Dove potevo andare? Io avevo un'attività e quindi dovevo lavorare, dovevo mantenere la famiglia, dovevo io lasciare la casa. quando gli avvertimenti del pericolo già anni prima era stato evidente e quello dovevano preoccuparsi loro. Io, intanto che parlavo, ogni giorno, quasi ogni giorno, andavo a supportare la carne, anche mentre il pericolo incombeva e capivo il pericolo. Io non riesco a perdonare, non riesco a capire il motivo perché non abbia voluto salvare nemmeno una persona. Avessero avuto la forza di salvare una persona. Perché ultimamente l'unico responsabile che era il geometra Rick Mayer era disperato, chiedeva a Venia cosa dobbiamo fare? Qui la montagna crolla a vista d'occhio. Cosa dobbiamo fare? Non fasciatevi la testa prima di ferirla. Questo ci diceva. Poche ore dopo, poche ore dopo, o è successo? Ho capito. Quanti anni aveva quando quella sera, quelle 21 e 39, mi correga se era un minuto più o un minuto, è successo quella? Quanti anni aveva? Io avevo 30 anni. Da 30 anni ad oggi? Sono passati 56. Oggi ne ha 86? 86. Beh, le faccio i complimenti perché li porto davvero molto bene. Ma al di là di questo, come ha vissuto questi 56 anni? Le ho detto che lavoro facevo io. Sì, sì, ho capito. Il macellaio. E ha vissuto in mezzo ai frigoriferi, tanto per sdrammatizzare. Sì, ho capito. Però senta, le fa... Senta, senta, senta. E come in questi 56 anni, poi, in questi 56 anni, come li ha vissuti? Perché se dopo 56 anni, questa sera, lei si autodefinisce un vigliacco, come li ha vissuti questi 56 anni? Beh, se proprio devo dirla tutta, qui, subito dopo, l'Assade e l'Enel avevano istituito una transazione da fare con i sopravvissuti e dei sedicenti avvocati, notai, periti, geometri, sono andati sul territorio a fare una mappa di aventi diritto e con minacce, con intimidazioni, hanno convinto il 94% dei sopravvissuti ad accettare un'elemosina che l'Assade... Ce la può ricordare? Ce la può ricordare? Sì. Si può fare che le cifre e si possono raccontare. Quanta era la cifra? Beh, per un marito, ad esempio, davano 3 milioni, per una moglie 2,5 milioni, per un figlio 1 milione o 800 mila, per una madre 400 mila, io con 400 mila all'epoca comperavo due vacche per la mia macelleria. Ecco, era quello il valore di una mamma? Ci può... Vi dico, voi siete amministratori, lo so che voi non siete responsabili, ci mancherebbe altro, però posso dire... Boh, non lo so, sindaco, lo chiedo al sindaco di Verunno, e ha detto, Massaro, poi vengo da lei perché voglio sapere, rimani di... Vieni, voglio sapere questi 56 anni come li ha vissuti. È incredibile, cioè... Non è una termissione per fare tolica o per piangerti addosso, però se sentire queste cose qui che le hanno offerte 2 milioni e mezzo, 3 milioni, 1 milione per... Cioè, meno. Meno anche. Diciamo che è una cosa... Scusi, mi scusi, poi si, poi si... E poi un po' di rabbia mi viene, mi perdoni se mi viene rabbia, eh. Leggita. Mi viene molta rabbia. Credo che, credo che sentendo queste testimonianze, ci si senta offesi noi che non abbiamo fatto... Per fortuna, non abbiamo, ahimè, partecipato a questa tragedia. Quindi, credo che ci si senta offesi come cittadini in generale. Non oso immaginare le persone che hanno avuto, che hanno toccato con mano questa esperienza, soprattutto hanno... ci hanno lasciato dei parenti, dei familiari, degli amici, si sentiva prima, era una cosa... era una cosa terribile. Anche perché... Mi scusi, sindaco. Mamma mia, vi interrompo che non è mio costume in questa trasmissione, perché... Ma... sentire queste cifre, cioè, trattati come disparità fra uomo e donna, po' porca... Cioè, non lo so io, cioè... Ma quella è, probabilmente, fa parte anche di una... Ma no, ma nessuno poi si è intervenuto... Fa proprio parte di una, credo, una modalità malata che purtroppo esiste in una parte dello Stato, secondo me, che ha sempre, in qualche modo, guardato agli obiettivi generali da raggiungere, prevalentemente mosse dalla logica del profitto, e... E che era solita andare... Passare soprattutto. Ma guardi, che... Per fortuna... Per fortuna, scusate... Esistono degli insegnamenti che in qualche modo riescono oggi a farci rivedere le cose con una visione più critica. Il Vaillant è... Stavo dicendo prima, per fortuna, cioè il Vaillant era un lapsus terribile, ma intendo dire che ci sono queste lezioni che oggi riescono in qualche modo a farci ragionare meglio e forse riesce a frenare anche quella parte di Stato o di privato mosso esclusivamente dalla logica del profitto. Però guardate che ancora adesso, al giorno d'oggi, si verificano dei tentativi o delle scelte completamente irrazionali che proprio non hanno nessun tipo di significato e che ancora in qualche modo tendono a mettere in discussione, a mettere ancora in pericolo le persone o se non mettono in pericolo comunque a non adottare alcun criterio di massima precauzione. Io faccio un esempio molto banale, ma stiamo conducendo una vera e propria guerra qui in provincia di Belluno anche con Roberto Padrin che oltre che sindaco di Lungarone è presidente della provincia, ma per evitare che vengano costruite delle infrastrutture, un elettrodotto in particolare che oggi impedirebbe agli aerei di atterrare all'aeroporto di Belluno, scusate, non aerei piccoli, agli aerei quelli militari che vengono utilizzati nelle operazioni di soccorso non potrebbero più atterrare all'aeroporto di Belluno. L'aeroporto di Belluno è il più a nord d'Italia. Questo perché ci si dice è importante portare l'energia elettrica, costerebbe troppo interrare, quindi bisogna mettere un elettrodotto lì e questo impedirebbe agli aerei di soccorso di poter atterrare per la provincia di Belluno. Cioè qualunque tipo di tragedia grave che si possa verificare secondo loro dovrebbe essere trattata diversamente, cioè bisogna arrivare con le automobili, con le colonne mobili, eccetera, ma non più con gli aerei. Non è più ritenuto importante. Ma stiamo scherzando. Io trovo che sia una cosa allucinante e che si debba come popolazione provinciale rinunciare alle funzioni di protezione civile del nostro aeroporto in virtù del fatto che si debba portare la corrente elettrica che è sacrosanta intendiamoci ma ci sono soluzioni alternative farlo in un territorio come quello della provincia di Belluno che ha pure subito lo scotto del Vajont è una cosa che è doppiamente offensiva. Però intendo dire con questo non voglio aprire questo perché il tema oggi è un altro ma era per portare un esempio del fatto che alcune logiche dal punto di vista del profitto o comunque della necessità di raggiungere un determinato obiettivo che a qualcuno è stato dato evidentemente ancora oggi vengono portate con una tale come possiamo dire con una tale energia e passando sopra a qualunque altro tipo di interesse che ancora oggi è assolutamente irrazionale. Questa battaglia tra l'altro non l'abbiamo ancora vinta siamo ancora qui noi stiamo ancora battaglando perché ancora esiste questa cosa qua il progetto c'è ed è approvato ma insomma ci stiamo ancora lavorando è un altro tema sì certo non voglio assolutamente però è per dire che purtroppo questa diciamo vena che in qualche modo ogni tanto lo Stato e il privato ha esiste ancora e bisogna ancora battagliare bisogna ancora continuare a lottare ecco però sindaco le dico io faccio trasmissione con molti politici e tutti dicono ma lo Stato ma il sindaco fa parte dello Stato ah per bacco assolutamente noi siamo istituzioni come tutte le altre il sindaco fa parte dello Stato non è un politico come quello ma lavora molto di più è tutto quello che vuole però fa parte dello Stato quindi è corresponsabile magari con minore percentuali però è corresponsabile siamo assolutamente tutti responsabili nel ritornare la diga vi assicuro magari mi metto contro tutti i longa come si dice longaronesi io l'avrei buttata giù quella diga lì perché dopo queste testimonianze però più o meno non arrabbia ancora di più che io sindaco l'avrei buttata giù ma io personalmente dunque dopo tutto quello che sento magari tutti dicono no è meglio vederla è meglio è meglio vederla ecco io invece l'avrei buttata giù pensi lei ma io dopo tutte queste disgrazie è il simbolo di quello che è successo sì sì certo allora noi io sopravvissuta avrei perso anche il motivo di esserci e di vivere molto veramente ha ragione lei no no ma io dico da esterno mi perdoni dalla rabbia molto veramente dico dalla rabbia ma la gente si ferma perché perché vede la diga perché sennò non c'è altro che rappresenta la tragedia ha ragione lei ha ragione io dico il mio pensiero dalla rabbia io l'avrei buttata giù no no per l'amor di Dio io proprio sì sì ma ragione lei momentaneamente l'abbiamo pensata tutti è quella mi viene nervoso dico avrei messo il monumento ma avrei buttato giù la diga di brutto però voi vivete conoscete meglio di me dunque avete sicuramente ragione voi quindi siete con la mia provocazione termina qui chiedovenia per tutti volevo sentire invece Dennis il tuo ospite dietro questi 56 anni come li ha vissuti se ogni giorno ogni notte quando si alzava dal letto pensava a quello che è successo pensava ai 2000 morti oltre che ai familiari pensava che è stato trattato male da chi è venuto a fargli delle proposte oscene vergognose cosa ha pensato? ma io subito dopo ho avuto la forza e anche la fortuna che sebbene la casa fosse andata distrutta la macelleria era stata danneggiata e mi era stata ristrutturata con una procedura di urgenza per 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 dare una continuazione anche di approvvigionamento ai superti ai sopravvissuti e quindi tre mesi dopo mi sono messo a lavorare mettendomi a lavorare mi sono ripreso la mia vita perché qui purtroppo dopo il disastro per motivi istituzionali o quant'altro perversava la corruzione più più becera qui tutti tra sussidi e tante altre cose e chi poteva di più piangeva di meno questo purtroppo è stato il dopo valiant non solo ma le dicevo prima che l'Enel e la Sade avevano istituito una transazione da fare con i sopravvissuti dando quelle cifre che ho spiegato prima il 94% di quelle persone sono state costrette dalla disperazione ad accettare per minacce e per tante altre cose di accettare mi faccio un esempio di una minaccia minacce perdevano tutto perdevi tutto se non accettavi e sottoscrivevi una clausola che una volta accettata questa somma che ti ti davano questa carità che ti davano dovevi rinunciare in futuro ad ogni qualsiasi presa di posizione giudiziaria e purtroppo il 94% solo un 6% non l'ha accettata e lei è tra quel 6% non è difficile capire che c'ero anch'io però la mia lotta è durata fino all'82 vale a dire 19 anni di lotta giudiziaria per avere un diritto di una cosa logica che le aspettava certo va bene grazie ovviamente alla testimonianza sindaco noi ovviamente siamo venuti perché poi in Longarone ci sono memorie c'è il museo c'è il cimitero ricordiamolo in questo contributo di Maurizio Colombo vediamo quella di di Longarone è una vicenda senza eguali la storia di una città che ha vissuto due epoche della prima lunga quasi 2000 anni resta poco o nulla l'acqua del Vaillant ha portato via secoli di vita dalla valle del Piave ha portato via quella che negli anni 50 i bellunesi chiamavano piccola Milano per quanto fosse dinamica e vivace a raccogliere ciò che rimane di quella città ormai perduta ha provveduto il museo Longarone Vaillant Attimi di Storia che dal 2009 si propone come luogo della memoria collettiva attraverso un'ampia mostra fotografica alle pareti a ricordo metaforico delle 1910 vittime una serie di lamelle metalliche contorte dalla sofferenza e lamelle bianche rettilinee tante quanti i bimbi mai nati a causa di quel 9 ottobre Attimi di Storia è un backup di un'intera società raccontata attraverso immagini e parole ma è anche il primo fra i luoghi della memoria longaronese la chiesa monumentale è forse il più noto per la sua architettura semplice ma unica rivestita in polvere di quarzo edificata sul finire degli anni 70 è un luogo di culto pensato per creare aggregazione nella nuova Longarone usando lo stesso materiale che compone la diga e il calcestruzzo per dare vita sia ad una chiesa che a una piazza laica sul tetto nell'aula sacra la statua della Madonna spazzata via dall'onda e recuperata a fossalta di piave è il lascito più importante dell'edificio precedente mentre i poveri resti della vecchia chiesa sono conservati nel seminterrato ad una manciata di chilometri dal centro il cimitero monumentale di Fortogna è il luogo più importante dedicato al ricordo di chi non c'è più allestito in tutta fretta nei giorni successivi alla tragedia è stato completamente ripensato nel 2004 quando si decise di porre 1910 cippi marmorei indipendentemente dal numero di corpi davvero identificati in realtà piuttosto esiguo il cimitero monumentale di Fortogna è il cimitero di tutte le vittime del Vaillant anche di chi nelle sue acque si è dissolto per sempre un luogo che più che conservarne le spoglie ne custodisce per sempre la memoria la nuova epoca di Lungarone è iniziata da una cinquantina di anni nascendo da una delle peggiori catastrofi generate dall'uomo ora la città desidera guardare avanti e pensare al proprio futuro ma mai più dimenticare nel rispetto di quello che è diventato il collante verbale di un'intera comunità prima il fragore dell'onda poi il silenzio della morte mai l'oblio della memoria servizio era di Maurizio Grombo come sta vivendo oggi Lungarone sindaco a livello di togliamo un attimino la tragedia perché è giusto anche visto che siamo qui in questo teatro e siamo a Lungarone lei è il sindaco è un paese che sta andando bene che comunque la gente è ritornata le aziende lavorano mi sembra di aver visto insomma un paese vivo insomma passando di qua tenendo presente sempre che siamo in una zona montana insomma ma noi quest'anno abbiamo anche realizzato grazie a un meticolosissimo lavoro del professore Amantia un libro che racconta l'industrializzazione della provincia di Belluno dopo il Vaillant perché questo è un aspetto che forse spesso non viene un po' esaltato però questa è la realtà il Vaillant nel suo dolore e distruzione però ha permesso di dare un futuro alla provincia di Belluno perché grazie alle leggi Vaillant di cui fu sicuramente il padre l'onorevole Gianfranco Orsini furono stanziate delle risorse e degli incentivi nei confronti di quegli imprenditori che volevano stabilire le proprie imprese all'interno del territorio bellunese sono nate quattro aree industriali di Longarone di Sedico di Paludi di Feltre quella di Longarone è la più grande e devo dire che da questa tragedia è partito veramente un lungo percorso e se adesso la provincia di Belluno ha un futuro forse troppo spostato verso un settore che è quello dell'occhialeria e forse di questa monocultura ma penso c'è anche il settore del freddo e di tanti altri settori sicuramente lo dobbiamo alla lungimiranza di questi imprenditori e a questa legge che ha permesso loro di insediarsi in queste aree lei è un sindaco giovane e anche presidente quando viene nominato presidente di una provincia è nominato da altri sindaci vuol dire che è un sindaco molto stimato io non so essere sindaco di questa gente credo che sia una delle cose che una persona possa essere davvero molto orgogliosa perché non ci sono altri aggettivi da usare credo davvero che nel vedere nel sentirli con tutte le varie problematiche che ci sono e che ci saranno la rendo orgogliosa di essere sindaco di Longarone io penso che tutti i sindaci sono orgogliosi di essere i primi cittadini del proprio paese è chiaro che in questo contesto si ha una responsabilità in più e sicuramente un motivo d'orgoglio in più io sono nato a Longarone ho sempre vissuto qui quindi ho avuto un papà che si è salvato perché quell'anno dopo aver lavorato qui alla stazione ferrovera di Longarone nel 62 nel 63 si salvò perché partì per la NAI e quindi si è salvato per quello ma subito dopo è ritornato e ha dato il suo contributo alla ricostruzione del paese a tante persone che sono qui sedute in questa sala va dato veramente questo grande merito di avere ognuno nel proprio piccolo dato una speranza di futuro a Longarone tutti hanno messo un piccolo mattone affinché la comunità ripartisse sia dal punto di vista diciamo materiale ma anche dal punto di vista morale se Longarone oggi è questo paese con un'area industriale con un centro fieristico che è il simbolo della montagna ormai del nostro paese dell'Italia che è la porta del parco nazionale delle toromiti bellunesi penso che lo dobbiamo proprio a queste persone cui io ora le umilmente cerco di rappresentare ma il vero merito di Longarone e di come è rinato è sicuramente tutto loro è stato molto chiaro poi vado andiamo in pubblicità poi vado da lì non chiesto che è stato soccorrettore mi ha detto mi avete messo qui non parlo mai adesso vengo da lei promesso andiamo in pubblicità poi veniamo tra poco in pubblicità e di come che è un'esercizio che è un'esercizio che è un'esercizio che è un'esercizio